la schiuma noccia ha dei punti guardali vedi uno si allora siccome tu allora comunque tanto la pittura è comunque sempre un linguaggio quindi tu scegli tu che cosa vuoi far vedere e in certi casi probabilmente conviene aumentare enfatizzare perché così poi tu c'hai l'effetto no anche qui un'altra cosa che succede che questi sono molto più neri e anche solo questo guarda come in qualche maniera aumentando quella tu c'hai a questo punto c'hai dei chiari e degli scuri con i chiari più di tanto non puoi lavorare con i chiari più di tanto non può lavorare ma puoi lavorare con con questi scuri vedi che vedi che è successo guarda la differenza adesso tu stai cercando di capire sto facendo un progetto quindi quello che è importante adesso ecco adesso lo sto forzando in maniera che cioè sapere quando cosa devi fare quando lavorare perché qui lavorerai magari con tutte e tre i colori quattro colori cioè terra d'ombra blu verde ci metterai tutto no anche solo questo fatto qui ci metterai quindi poi quello ti aiuterà perché sono quelli che ci sono lì sono dei colori saturi no quindi anche solo avere questo guarda 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 per il questo ma secondo me va bene c'ha questo aspetto un po sfrigolante però probabilmente poi la quando lavorerai lavorerai su una pasta il matte quindi lo farai più sfumato no è quindi quello non mi preoccupa lo sai io in effetti non ho una grossa esperienza quella lì potrebbe andar bene come potrebbe andar bene fammi vedere un attimo come potrebbe andare bene anche un beige un arancio perché ti contrasterebbe devi fare delle prove però scusa solo un momento sai che puoi venirmi a trovare su twitch dalle nove e mezza dal giovedì alla domenica sera tutte le settimane e poi farmi tutte le domande che vuoi e chiacchierare con me trovi il link qua sotto nella descrizione a ci hai messo però hai fatto prima un sole qui ci hai messo un sole qui sì però è dietro le nuvole strazie è molto trattata questa qui c'è una foto proprio sono nuvole che prendono sole probabilmente il sole è già sceso comunque ottimo cioè mi sembra volendo potresti 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 al massimo volendo eh si appunto potresti non posso farlo qua ah beh si appunto potresti aumentare in questa zona oltre che in questa qui però cioè così che lo rendi più simile al modello ma non se non ti piace tienitelo così va bene così allora vediamo un po' se tu schiarisci ancora vedi che qui ecco no perché poi prende prende troppa importanza sta cosa troppa importanza troppo contrasto e infatti no no lascia stare sì sì quello è il soggetto e quello è lì e l'unica cosa che ti dà il senso di profondità è questa pietra in questa zona che funziona ok ci fermiamo qui domani una nuova lezione da 5 minuti la mettere tutto è tutto